Presidente D'Alfonso, oggi giunta a Campo di Giove, dunque andate anche nel centro dell'Abruzzo per abbracciare tutto il territorio. Ma questa è la seconda iniziativa che teniamo sul territorio, presto ne faremo di ulteriori perché noi vogliamo portare Regione Abruzzo nei luoghi di vita, di progetto, di ambizione e anche di difficoltà della nostra realtà territoriale. L'ente Regione Abruzzo, cioè il potere degli abruzzesi che va dovunque c'è la vita degli abruzzesi. Oggi all'ordine del giorno c'è la rete delle urgenze e emergenze che noi dobbiamo riorganizzare. Nel quadro di questa riflessione, confronto che faremo, affronteremo il tema anche del servizio di guardia medica. Noi siamo impegnati in un profondo lavoro di completamento del piano di rientro per quanto riguarda i conti della sanità. Dobbiamo uscire dal commissariamento e dobbiamo determinare una perfetta corrispondenza tra ciò che compriamo come prestazioni di beni e servizi per il diritto alla salute delle persone e ciò che noi possiamo permetterci con la nostra capienza di bilancio. Su questo lavoreremo molto per abbattere le spese inutili, per riqualificare la spesa e l'investimento e soprattutto per tenere sotto costante monitoraggio ciò che noi ci possiamo permettere. Presidente, si parla tanto a proposito di sanità, di ASL unica, di CUP unico? Questi sono dei totem che a volte fanno innamorare soprattutto nella stagione estiva. Noi assumeremo un modello capace di funzionare, che dia luogo dall'alto verso il basso e dall'alto verso tutte le direzioni a indirizzi, obiettivi, procedure, organizzazione e risultati che dovranno essere monitorati e verificati e giudicati dalle utenze, dai cittadini, dalle persone e anche dalle espressioni comunitari che ci dovranno aiutare a capire come si sta facendo e dove bisogna correggere. Noi organizzeremo una territorializzazione sia della sanità che delle prestazioni sociali e poi organizzeremo al centro una capacità di governance che periodicamente però deve misurare ciò che si realizza.